Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nello scorso episodio sul canale abbiamo visto come scattare un orologio su fondo bianco per e-commerce con un'angolazione che mi aveva richiesto uno di voi. Ovviamente non è un tutorial unico per quanto riguarda il setup luce e ci sono davvero tanti modi di illuminare un orologio che vedremo appunto nel corso del tempo qui sul canale, ma focalizziamoci oggi appunto sul capire come andare a ritoccare questa fotografia e quindi renderla quasi perfetta. Usufriamo una delle funzioni di photoshop che ci permette di caricare i file in batch in un unico file e questo permetterà di allineare anche i livelli dato che avevo realizzato delle composizioni. Quindi andiamo in file, script, carica file in serie. Ovviamente andiamo a sfogliare il percorso, io già l'avevo fatto proprio per comodità, seleziono i quattro file, do un ok e attivo la funzione di allineare automaticamente le immagini. Possiamo farlo sia ora che dopo, ma ovviamente sfruttiamo la funzionalità. Una volta fatto questo abbiamo come vedete qui tutti i livelli, quindi quello che dobbiamo fare dobbiamo iniziare a mascherare le varie composizioni. Come vedete questo era lo scatto che avevo realizzato per la parte da recuperare qui sul nero. Come vi avevo detto in fase di scatto non è necessario farlo per forza perché si risolve in pochi minuti in fase di postproduzione, ma appunto questo sta a voi. Quindi iniziamo a lavorare per step. Porto il livello al di sopra, così attiviamo una maschera e la invertiamo, facciamo uno zoom e col pennello in bianco per riportare i colori in default. Premete D da tastiera e poi per invertire X, quindi vedete i colori qui al lato si invertono e usiamo un pennello al 100% per andare a riportare questa schiarita qui sul lato. Quindi vedete semplicemente ho fatto questa cosa. Adesso io vado ad unire i livelli perché non mi servirà tornare indietro, dato che è una composizione che vorrò ottenere, quindi lasciamo stare il tutto. Questa invece era la composizione per recuperare un pochino di contrasto sul quadrante, ma vediamo o meno se utilizzarla perché in realtà potremmo fare la stessa cosa semplicemente con un livello di curve. E poi avevamo l'altra composizione che appunto anche questa leggermente inutile mi permetteva di recuperare un pochino di luce qui nella parte bassa e anche un pochino sul cinturino, ma siccome vedete appunto che resta molto morbida la luce in questa posizione, secondo me è anche inutile perché basterà veramente pochissimo per andare a schiarire leggermente tutta la zona qui in basso. Ovviamente se vogliamo utilizzare questa composizione, attiviamo la maschera, la invertiamo con ctrl i o command i e semplicemente poi guardate andiamo a recuperare tutta la luminosità. Io l'ho fatto per far vedere a voi perché nel caso in cui non siate molto efficienti in Photoshop potete semplicemente utilizzare questo metodo per andare a schiarire, ma semplicemente si risolve appunto in pochissimo. Ultima cosa da fare, come vi dicevo anche qui leggermente inutile, per andare a recuperare il contrasto nel quadrante. Quindi semplicemente dovremmo fare questa cosa, ovviamente l'ho fatto molto velocemente, ma dovremmo stare poi a mascherare diciamo con un certo criterio e quindi andiamo a fare questa cosa per rendere il quadrante molto più contrastato. Questo proprio perché in fase di scatto il quadrante rifletteva quello che è il pannello laterale e quindi semplicemente appunto andava a rendere il vetro molto molto chiaro. Ma lasciamolo così com'è e semplicemente iniziamo ad effettuare delle piccole correzioni. Lavoriamo magari su un livello copiato o su un livello nuovo, semplicemente per avere la possibilità poi di tornare sempre indietro e possiamo iniziare a rimuovere i pezzetti più grandi di polvere. Questo lo faccio tramite l'utilizzo del pennello correttivo al volo, poi valuteremo se utilizzare le frequenze per altre tipologie di correzioni, ma possiamo utilizzare anche il polvere e graffi. Una passata di polvere e graffi sicuramente la vado a fare nel momento in cui ci sono dei dettagli più piccoli, ma per questi più grandi utilizzo il pennello correttivo al volo perché altrimenti il polvere e graffi andrebbe ad appiattire troppo la texture e se andassi a mascherare leggermente poi inizierebbero a comparire quelli che sono diciamo delle macchie di colore. Quindi le parti più grandi togliamole in questo modo. Quindi una volta rimosse le parti più grandi possiamo procedere adesso con il resto del fotoritocco. Ovviamente ragazzi non concentratevi tantissimo su tutti i particolari perché questo dipende anche da quanto tempo voi avete per andare ad effettuare questo fotoritocco. Un'altra operazione che posso andare a fare è utilizzare il filtro disturbo polvere e graffi come vi dicevo per andare a pulire un pochino le maglie. Guardate già con i parametri che erano preimpostati aumentiamo leggermente il raggio così possiamo andare poi a pulire semplicemente la polvere sul cinturino. Guardate come vi dicevo appunto va a creare queste macchie che non sono bellissime. Possiamo diminuire la soglia ma questo andrà poi a perdere anche tutti i dettagli quindi quello che possiamo fare è tornare allo stato storia precedente impostare il pennello storia sul polvere grafico così utilizzando il pennello storia noi possiamo andare a pennellare sulla polvere che appunto ci interessa rimuovere all'interno di questo scatto. Ovviamente fate attenzione ad andare sui bordi quindi in questo momento io sto pulendo semplicemente la polvere che è all'interno di dettagli quindi non sui bordi per quello utilizzeremo l'azione che ho creato e che è disponibile al download per voi. Quindi passata quest'altra fase della pulizia ovviamente questo dipende anche dal risultato che voi volete ottenere perché con il ritocco come sapete si può sempre sempre andare avanti e migliorare davvero qualsiasi cosa quindi diciamo io vi mostro più o meno come realizzare una fotografia quasi perfetta però appunto voi fermatevi dove sapete che è il vostro limite oppure dove pensiate che possa essere giusto il ritocco di quella fotografia e ovviamente è anche difficile da capire appunto però questo lo imparate con l'esperienza e con il tempo. Come vedete bene o male la fotografia è già abbastanza pulita c'è da lavorare sul colore sulla luce però in generale l'orologio è pulito c'è da correggere ad esempio questa parte qui possiamo andare a lavorare sui bordi e per fare questo possiamo già valerci di un'azione che ho creato e vi ho messo anche a disposizione che è quella che permette di pulire i bordi c'è un video dedicato a parte che vi lascerò in sovraimpressione a questo video. Utilizziamo la modalità soft al momento poi vediamo se è necessario utilizzare la modalità hard. Allora va a creare una maschera nera quindi noi dobbiamo mascherare di bianco poi sui bordi questa azione andrà a rimuovere anche molti dei dettagli ma non vi preoccupate ovviamente se non appunto andate a pennellare su quello che è il metallo stesso però possiamo andare poi alla fine ad aggiungere leggermente un disturbo che ci andrà a recuperare un pochino di quella grana all'interno dei dettagli appunto quindi vado a pennellare appunto sulle linee sui bordi quindi guardate come pulisco praticamente tutto. Posso pennellare anche proprio sulle maglie facendo attenzione a non pennellare proprio dove è molto evidente la parte di acciaio spazzolato se è così che si può chiamare penso di sì. Questa è una scelta personale a me questo effetto fake piace davvero tanto e appunto dipende da voi a molti buon non piacere però vedete anche poi se vado a pennellare su quello che è l'orologio va a rendere proprio come vedete pennellato l'effetto però possiamo andare a ridurlo leggermente o abbassando l'opacità oppure come vi dicevo semplicemente aggiungendo un pochino di disturbo dopo cosa che faccio a prescindere perché lavorerò molto anche di pennelli che vanno proprio a rimuovere la texture quindi stare a riprendere un pochino i dettagli non è male. Ovviamente questa essendo una fotografia che finirà anche sull'e-commerce diciamo non è necessario fare proprio l'operazione di raggiungere la texture perché verrà usata veramente in bassa risoluzione. Guardate anche l'azione come funziona bene in questa parte qui dell'orologio. questa azione è veramente pazzesca ci ho messo anni per arrivare a trovare i valori giusti per crearla quindi ragazzi fatene tesoro e utilizzatela bene all'interno delle vostre immagini. Ovviamente non vado fino in fondo perché qui penso che già ritaglieremo l'immagine quindi inutile stare a pulire zone che taglieremo via e quindi come vedete appunto stiamo andando già a rendere perfetto tutti i dettagli possiamo passare anche proprio sui dettagli dell'orologio lineari mi raccomando non passate sui numeri o su parti molto piccole perché l'azione va anche a diciamo corrompere poi i dettagli della fotografia. Come vedete aggiunge anche contrasto e nitidezza questo perché appunto era necessario andare a riprendere un pochino la nitidezza dato che la vada a piattire molto. Diciamo che una pulizia del genere va già più che bene ovviamente si potrebbe andare avanti 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 come vedete ci sono pezzettini di polvere ovunque soprattutto perché è un orologio che utilizzo mi raccomando utilizzate sempre orologi nuovi quindi siamo passati già da una fotografia del genere a una fotografia del genere si nota poco ma vi assicuro che nei dettagli come vedete anche in questa zona abbiamo rimosso parecchie imperfezioni dall'immagine. Prossimo step da fare possiamo procedere ad esempio con lo smussare questi dettagli possiamo procedere in diversi modi quello che farei è creare un nuovo livello e utilizzare il pennello miscela colori. Il pennello si trova sotto le opzioni del pennello base ma siccome ha segnato la lettera n per richiamarlo a me e a parte è semplicemente quindi lo utilizziamo campionando tutti i livelli per andare a sfocare leggermente i dettagli. Vado ad usare un pennello leggermente più duro così guardate magari con un'opacità del 30% quello che posso fare è anche fuoriuscire un pochino con i dettagli e poi semplicemente vado a mascherare dopo così riesco anche a mantenere quella linearità e pulizia. Lo sto facendo su un livello separato come vedete così semplicemente poi posso andare a mascherare dopo. E poi se non vi piace da altre parti come sta venendo il risultato prendete semplicemente il pennello e create questi gradienti in questo modo. Ci sono diversi modi di andare a lavorare con i gradienti io quello che vi consiglio è di lavorare su un livello anche uscendo fuori dai dettagli e poi semplicemente fare questa cosa. Possiamo mascherare sia a mano oppure con una selezione quindi andiamo a prendere la penna in questo caso però dobbiamo fare attenzione a mantenere bene la circolarità dell'orologio perché altrimenti va a finire che usciamo fuori dai dettagli oppure creiamo dei bordi leggermente più taglienti oppure dei bordi squadrati e quindi fate attenzione a come fate la selezione. Come vi dicevo appunto è inutile stare lì a correggere tutto in camera perché in post produzione forse si fa ancora più veloce. Io vado sempre ad unire i livelli perché queste sono modifiche che non vorrò rimuovere. Le modifiche diciamo più sensibili e quelle che potrebbero non piacere al cliente o di cui non siamo sicuri lasciatele su livelli separati. Io per alleggerire il file e mantenere anche un flusso di lavoro un po' più costante diciamo unisco spesso i livelli e poi vado a creare un nuovo livello nel momento in cui so che quella modifica potrebbe non piacermi in futuro eccetera. Comunque è molto difficile ritoccare con questa lampada sparata negli occhi nonostante cerchi di lasciarla al minimo è veramente molto potente infatti a volte sembra che non riesco a vedere bene lo schermo e non vedo bene i dettagli però vabbè. Prossimo step possiamo procedere adesso con quello che è lo scontorno perché grazie allo scontorno poi potremo correggere i dettagli qual è la ghiera. Ovviamente ragazzi inutile stare a dirlo io vado ad utilizzare la penna e perché mi permette di essere super preciso ma come vedete abbiamo già buon contrasto perché appunto è stato già scattato su bianco quindi potete anche scegliere di utilizzare la bacchetta magica e poi rifinire i dettagli con un altro strumento però siccome sapete che sono un fissato per la precisione vado a effettuare questo scontorno con la penna. Quindi chiudo lo scontorno 0,4 0,3 va bene crea un nuovo livello e quindi guardate abbiamo il nostro orologio scontornato vado a creare un livello di tinta unita bianco così possiamo posizionare il nostro orologio su bianco quindi passiamo da una foto del genere a una foto del genere possiamo procedere anche con il ritaglio andiamo a realizzare un ritaglio quadrato per l'orologio e procederei anche con il ruotarlo leggermente per averlo un pochino che appunto si affaccia verso l'alto così dovrebbe essere un buon ritaglio magari andiamo a ritagliare un pochino di più in modo da non vedere delle mezze maglie. Generalmente come pulizia dell'orologio secondo me va già bene c'è adesso da lavorare solamente su luci eccetera perché ho fatto lo scontorno perché guardate siccome voglio correggere queste zone sul sulle ghiere laterali semplicemente control click sul livello lavoro sul livello a parte con il pennello miscela colori e vado ad uniformare un pochino quello che è il colore quindi lo rendo guardate più morbido anche se comunque mantenere il bordino leggermente più scuro è corretto a livello di illuminazione perché la dalla sensazione che la ghiera appunto sia girando vediamo com'è perché altrimenti possiamo mascherare semplicemente quindi guardate ho fatto questa correzione e quello che possiamo fare poi sicuramente è scurire leggermente dopo con delle curve o semplicemente utilizzando il dodge and burn per dare un po più un senso di bombatura però abbiamo sicuramente un colore un pochino più uniforme prossimi passaggi da fare come vedete non so perché vediamo se riesco ad accentuare l'effetto si vedono delle macchie guardate qui ci sono queste macchie non so se il vetro che non era pulito o se il sensore della fotocamera ma penso sia più qualcosa che dipende dall'orologio è strano come possiamo fixare questa cosa in diversi modi sicuramente le frequenze sono forse il metodo più veloce per fare questo quindi andiamo a lanciare l'azione delle frequenze con un raggio molto basso ad esempio 2.8 va bene diamo un ok le frequenze ci sono adesso andiamo sulla frequenza bassa creiamo un nuovo livello e vado a prendere diciamo posso procedere in diversi modi il metodo più efficace forse piuttosto che lavorare sul livello separato è quello di creare una copia del livello e utilizzare il filtro camera raw voi direte marco ma sei pazzo no ragazzi ci sono delle funzioni che utilizzo spesso guardate ad esempio se vado in dettagli attivo la riduzione del disturbo e rimuovo tutta la texture dei dettagli guardate un prima e dopo ho corretto praticamente l'errore che c'era per essere sicuro di aver fatto tutto bene lo rilancio quindi così vado a pulire ulteriormente e quindi guardate così effetto la pulizia del quadrante ovviamente adesso non ci resta che mascherare solamente sulle zone scure dell'immagine possiamo avvalerci sia delle opzioni di fusione guardate quindi vado ad escludere tutti i dettagli luminosi oppure possiamo avvalerci di utilizzare guardate ho fatto questa correzione possiamo avvalerci di utilizzare il selezione orange colori che forse funziona anche meglio ma siccome a noi interessa ovviamente mascherare andiamo ad attivare la maschera la invertiamo e col pennello bianco andiamo a correggere le zone sporche dell'orologio ovviamente facendo attenzione ai dettagli praticamente con un clic abbiamo fatto questa cosa chiudo le frequenze sotto il livello sottostante guardate prima poteva sembrare non evidente ma in realtà veramente era molto sporco il quadrante non so da cosa dipenda e soprattutto accentuando poi il contrasto si sarebbe notato ancora di più perdonatemi se questo video durerà parecchio però purtroppo il tutorial è questo e dovete accontentarvi appunto di imparare tramite lezioni lunghissime ci metto anche io tempo per fare queste cose quindi semplicemente questo è adesso quello che possiamo fare è iniziare a correggere un pochino luce e colori allora innanzitutto andiamo a realizzare un livello di tonalità e saturazione per rimuovere questo leggero colorito che c'è all'interno delle maglie che non mi piace ovviamente potremmo rendere l'immagine anche in bianco e nero perché più o meno siamo lì ma abbassiamo l'opacità in modo da mantenere una leggera tinta di quello che è il metallo e poi quello che farei inizierei a lavorare un pochino sul contrasto usiamo un nuovo livello di curve in modalità luminosità oppure utilizziamo la curva ad x alziamo un pochino quelli che sono i neri e poi lavoriamo sulle ombre in questo modo abbassiamo un pochino le luci quindi guardate nella parte bassa sono andato a recuperare molto dettaglio luminoso utilizziamo di nuovo il blend if per o meglio lo stile livello per andare a rimuovere un pochino la decorazione su quelle che sono le alte luci e sfumare verso le ombre ovviamente facciamo attenzione perché guardate va a rendere tutto molto piatto quindi restringiamo parecchio il range in questo modo quindi ovviamente invertiamo la maschera e poi andiamo a pennellare solo nelle zone dove ci interessa quindi vedete come vi dicevo appunto non ci vuole niente a fare questa cosa posso andare a lavorare poi sulle zone laterali dove voglio andare a schiarire ma appunto noi dovremmo anche accentuare il contrasto proprio dell'orologio quindi al momento facciamo questa cosa in questo modo ne vado a creare un altro perché voglio andare ancora di più ad accentuare il contrasto nella parte bassa e utilizzo di nuovo il blend if quindi guardate rimuovo le alte luci inverto la maschera e questa volta lavoro con un 30% di opacità e vado a pennellare proprio dove mi serve per questo vi dicevo non è necessario farlo proprio in fase di scatto perché appunto si può sempre fare davvero tanto in post produzione quindi guardate queste sono le regolazioni abbiamo già recuperato la parte luminosa nella parte bassa dell'orologio che ovviamente resta ancora un pochino sotto esposto perché il metallo vedete qui è ben esposto ma la parte frontale proprio per non bruciare i dettagli l'ho lasciata molto meno contrastata perché preferisco recuperare il contrasto in maniera selettiva in post produzione creiamo l'ultimo livello di curve e questo sempre in modalità luminosità che mi andrà ad accentuare un pochino il contrasto dell'orologio quindi iniziamo a lavorare un pochino sui contrasti guardate già che recupero soprattutto sul quadrante che ho e facciamo attenzione alle alte luci le alziamo leggermente ma poi mascheriamo questa volta di nero sulla parte laterale quindi guardate lavoriamo proprio solo sull'orologio anche se poi qui sulla parte laterale effettivamente è molto molto diciamo contrastato è molto chiaro quindi possiamo sempre creare nuovi livelli di curve lavorare su un livello curve singolo questo dipende dal vostro flusso di lavoro però andiamo a schiarire ulteriormente un pochino il metallo questa volta utilizzo sempre in modalità luminosità una curva che vado ad alzare dal punto centrale la inverto e lavoro in maniera selettiva solamente su determinate porzioni dell'immagine come ad esempio la parte del quadrante qui la parte qui in alto quindi accentuiamo le alte luci dove già sono presenti guardate quindi una piccola piccola regolazione ovviamente questo contrasto deve esserci tra zona laterale eccetera perché il metallo è bombato ovviamente riflette la luce in maniera differente possiamo spingerci sempre di più e quindi alzare ancora di più in questo modo questo dipende da come vi piace la fotografia non voglio esagerare perché se no iniziamo a perdere guardate i dettagli qui al lato diciamo così va già più che bene possiamo procedere veramente in tantissimi modi adesso cioè questo dipende da un vostro punto personale perché se vogliamo accentuare il contrasto e avere un orologio più di questo tipo possiamo farlo oppure avere ad esempio un contrasto selettivo quindi accentuare il contrasto sul quadrante con un'opacità del 50% la applichiamo due volte quindi al quadrante siamo al 100% e poi su tutto l'orologio andiamo col 30% e poi il 20% così abbiamo diciamo un contrasto leggermente selettivo sull'orologio e come vedete ovviamente l'orologio è pulito e ci sono dettagli ma possiamo anche accentuare la nitidezza utilizzando ad esempio l'azione che mi perdo tra tutte queste azioni nitidezza soffusa ad esempio quindi guardate sul quadrante c'è un leggero recupero della nitidezza non so se si nota io lo noto penso che si noti appunto e quindi ragazzi questo era il tutorial per passare da questo prima a questo dopo come vi dicevo inutile stare lì a correggere veramente di tutto perché potremmo ad esempio eseguire un match delle maglie laterali quindi avere lo stesso colore su tutte le maglie guardate qui c'è questo riflesso più scuro qui più chiaro potremmo stare a schiarire un pochino qui la parte bassa potremmo stare a correggere i contrasti sulla faccia dell'orologio non mi ricordo come si chiama il quadrante scusate e poi potremmo stare a fluidificare leggermente la curva perché come vedete qui dovrebbe andare leggermente più curvato quindi diciamo ci sono tantissimi modi per appunto passare già da una foto di questo tipo una foto di questo tipo secondo me è un ottimo ottimo lavoro anzi possiamo secondo me ritagliare anche un pochino di più vediamo se questo ritaglio funziona sì potrebbe funzionare anche in questo modo quindi dove abbiamo una leggera importanza più verso la parte alta dell'orologio quindi ragazzi questo era il tutorial io spero che vi sia piaciuto e soprattutto continuate a seguirmi per supportare il mio canale è davvero per me importante quindi lasciate un mi piace commentate iscrivetevi al canale ovviamente continuate a seguirmi anche sui miei social personali trovate tutti i link qui sotto in descrizione per restare aggiornati su tutto quello che succederà nel nuovo anno e durante il periodo natalizio perché sto organizzando alcuni incontri siccome sarò in Italia quindi ragazzi seguitemi e noi ci vediamo in un prossimo video un saluto da Marco ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti